Siamo qui al termine della prima semifinale d'andata, si sfidavano Ternano e Povercelli. Povercelli riesce a vincere 4-2 nel segno di uno straordinario Alessandro Tomei a cui lascio la parola. È stata una partita molto sofferta, stava Simone Formisano che era sempre difficilissimo marcarlo. Vabbè, penso che abbiamo giocato meglio e speriamo di fare la stessa cosa al ritorno. Come si affronta questo ritorno? Con tanta voglia di vincere, con grinta, che non dobbiamo prendere voi. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, dedica questa straordinaria prestazione alla squadra, al mio capitano, Lorenzo Riccia, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Veramente oggi un muro. E a te? E alla mia curazione. E poi dimmi quale è l'uomo da tenere d'occhio per la finale, cioè chi temi di più della Ternano? Per il ritorno. Per il ritorno? È un pesimo. Complimenti a Boccaccio, le mando a Ternales.